Lavoratori esausti, basta con le parole, da una settimana sono in presidio davanti ai cancelli dello zuccherificio, politici si alternano ma ora gli operai chiedono un futuro di lavoro. Pozzi di Capoiaccio, la Bonifica è lontana, Cerce Maggiore vogliono tenere destra l'attenzione sul caso degli interramenti. I cittadini aspettano che l'area venga ripulita dopo le promesse del Ministero. La giornata dei migranti in ricordo delle vittime, l'evento nazionale promosso per commemorare i profughi che non ce l'hanno fatta. A Campobasso un incontro per sensibilizzare sul tema dell'accoglienza. I ragazzi della media davanti a Mattarella sono gli studenti dell'Andrea Di Sernia che hanno partecipato all'apertura dell'anno scolastico a Sondrio con altre cinque scuole d'Italia l'incontro con il Presidente della Repubblica. La sorpresa è l'Agnone, primo in vetta, nuova vittoria in trasferta degli altomolisani che salgono in cima alla classifica dopo il 2-0 a San Mauro di Romagna. Il Campobasso perde a Castelfidardo. Buon pomeriggio, un saluto dalla redazione di Telemolise, edizione delle 14 del nostro telegiornale. Da una settimana ormai sono davanti ai cancelli dello zuccherificio, lo avevano annunciato, che avrebbero montato tra l'altro anche una tenda permanente per protestare tutta la loro rabbia per il fallimento e la chiusura dell'azienda. Loro di fatto sono rimasti senza lavoro. Da sette giorni su quel palcoscenico si alternano anche personaggi della politica. Siamo stanchi, vogliamo soltanto lavorare, dicono gli operai. Sentiamo Manuela Iorio. Giorni decisivi questa volta, non per il futuro dello zuccherificio, ma per quello dei lavoratori. Perché se fino a poco tempo fa l'imperativo era quello di salvare l'azienda, adesso le cose sono cambiate. I dipendenti hanno preso consapevolezza della fine di un pezzo di storia, della fine della filiera dello zucchero, dell'indotto, insomma, della fine di tutto. Ora dunque le forze e le energie sono da concentrare esclusivamente per salvare la loro condizione per poter riavere un futuro. Lo hanno ribadito con una lettera e continuano a stare davanti ai cancelli perché non si spengano i riflettori. Nessun lavoratore deve essere abbandonato a un destino segnato da solitudine e vita precaria, hanno detto. Nei giorni scorsi diversi politici si sono recati davanti alla fabbrica. La deputata Laura Venitelli, l'ex governatore Michele Iorio, l'assessore Vittorino Facciolla e sabato anche il presidente Paolo Frattura. I lavoratori ora chiedono di essere ricollocati dalla regione. Mi aspetto risposte e concretezza. Il presidio va avanti da circa dieci giorni e il personale dipendente dello stabilimento vuole essere ricollocato all'interno di strutture pubbliche della regione Morise. Di concreto non c'è nulla, però si sono aperti dibattiti e spiragli positivi da tutti coloro che ci hanno fatto visita. Per cui sono fiducioso che adesso attraverso le strutture pubbliche e regionali troveremo i percorsi adatti per questa ricollocazione. Se le istituzioni, i nostri governanti hanno deciso di chiudere definitivamente questo stabilimento, mi auguro che sappiano e abbiano già una linea guida per far sì che noi possiamo vivere dignitosamente di lavoro. La politica di questa regione oggi deve assumersi la responsabilità di dire sì, voi avrete una possibilità di ricollocamento anche in altri ambiti, anche in altri settori, però io non sto chiedendo che voglio il posto alla regione Morise, mi spiego. Io voglio lavorare, sono monoreddito, non ho come poter mandare avanti una famiglia senza la possibilità di avere un lavoro. O almeno, non chiedo di essere assistito, perché comunque abbiamo avuto già due anni di cassa integrazione. Parliamo di un'altra questione che si sta trascinando davvero da decenni. Parliamo di inquinamento, inquinamento della zona Capoiaccio a ridosso di Cerce Maggiore. Negli anni 70 quell'area fu trivellata per cercare idrocarburi, poi tutto è stato sotterrato. Sulla questione si è anche steso un velo di silenzio, nonostante le promesse di una bonifica mai arrivata. Anna Maria Di Matteo. A parte la disponibilità di porre una recinzione attorno all'area, per il resto sembra essere sceso il silenzio sull'inquinamento ambientale a Cerce Maggiore. Una vicenda che continua a preoccupare gli abitanti del paese, in particolare quelli dell'area di Capoiaccio, nella quale si trovano i pozzi petroliferi della Montedi, sono dismessi da oltre 20 anni. Eppure, nonostante i pozzi siano stati sigillati e coperti di cemento in tutta l'area, continuano a registrarsi livelli di radioattività 10 volte superiori alla norma. In questi mesi sono state avviate le procedure per mettere in campo iniziative in grado di fare piena luce sulla situazione e soprattutto di eliminare la causa dell'inquinamento. Una vicenda prodata sul tavolo del Ministero dell'Ambiente, per la quale è stata perfino istituita una task force coordinata dal prefetto di Campobasso. Nel frattempo però l'allarme resta alto. Il consigliere regionale Michele Petraroia ha denunciato il totale immobilismo delle istituzioni con il Ministero che non ha finanziato alcuna bonifica sul territorio di Cerce Maggiore, dove, ha ricordato Petraroia, erano stati accertati sversamenti tossici all'interno dei pozzi, con conseguente inquinamento delle falte acquifere, del suolo e dell'ambiente. L'assenza di un registro regionale dei tumori poi impedisce di avere dati certi sulla causa di decessi per patologie tumorali registrati con una frequenza preoccupante in tutta la zona. Tra le preoccupazioni della rete degli enti locali e dei comitati di tutela ambientale, che si è costituita a Santo Croce del Sannio, sotto legida del Vice Presidente della Corte Costituzionale, Maddalena, ha ricordato il consigliere regionale, c'è anche quella di sollecitare un rafforzamento delle azioni di prevenzione sulle maxi-infrastrutture, sulle trivelazioni petrolifere o i nuovi impianti eolici, affinché tutte le operazioni vengano eseguite nel pieno rispetto delle normative vigenti. Per evitare, aggiungono i cittadini, che si verifichi quello che è accaduto oltre 20 anni fa a Capoiaccio, dove a distanza di così tanto tempo non è stata ancora messa la parola fine. Denunciato per detenzione di droga finalizzata allo spaccio, un uomo di 50 anni a Porto Cannone, i carabinieri in casa sua hanno trovato tre piante di marijuana alte più di due metri, le indagini sono in corso, non si escludono sviluppi. A Termoli invece il Comune ha pubblicato un bando per 30 borse lavoro ad altrettanti cittadini che vivono in condizioni di difficoltà. Il lavoro è di sei mesi, dovranno pulire la città. Sentiamo. Il Comune di Termoli punta nuovamente sulle borse lavoro, un'opportunità di guadagno per chi vive in condizioni di disagio. Questa volta l'ambito è quello della gestione dei rifiuti urbani e dunque le 30 persone che verranno selezionate si occuperanno dello spazzamento della città, che sarà aggiuntivo a quello già effettuato dalla Teramo Ambiente, che gestirà direttamente i borsisti. 15 partiranno a breve, altri 15 invece in seguito. Sei mesi durerà il contratto con un'indenità di 600 euro lorde per 20 ore settimanali. Si tratta di fondi regionali che sono stati intercettati attraverso l'assessorato all'ambiente per un finanziamento totale di 120.000 euro. Da quando si è insediata l'amministrazione Sbrocca finora, sono 103 le persone che hanno potuto beneficiare delle borse lavoro. L'amministrazione Sbrocca crede non soltanto nei progetti di sostegno sociale, ha una visione straordinaria di crescita della città di Termoli. Queste borse lavoro si inseriscono all'interno di un'attenzione al futuro economico della città e soprattutto non possono non tener conto di un fenomeno di diffusa povertà contro cui bisogna porre in essere tutte le azioni di contrasto. Quello in corso è il quarto bando e si potrà presentare domande in comune dal 3 al 24 ottobre. Tra i requisiti richiesti c'è la residenza a Termoli da almeno tre anni, uno stato di disoccupazione che dura minimo da 12 mesi, un ISEE non superiore ai 4.500 euro e un'età compresa tra i 18 e i 59 anni non compiuti. Per questo bando è stato eliminato il requisito che vietava di presentare domanda a chi già aveva ottenuto una borsa lavoro, in quanto lo stato di indigenza potrebbe anche continuare nel tempo, ha spiegato il dirigente alle politiche sociali Marcello Vecchiarelli, che ha chiarito che a parità di posizione verrebbe privilegiato comunque chi non ha mai usufruito delle borse lavoro. Quattro delle 30 borse lavoro sono riservate a persone con grave disagio sociale, culturale, economico, ma nello specifico ex detenuti, persone che hanno avviato un vero percorso di recupero da tossicodipendenze o persone con problemi psichici che però sono nelle condizioni di poterci accompagnare nel lavoro di spazzamento. Due tragedie a poche ore l'una dall'altra si sono consumate nel Venafrano, dove due persone si sono tolte la vita, entrambe le vittime erano molto conosciute. A Montaquila la tragica fine di un barista di 50 anni trovato senza vita in casa sua. Questa mattina a Venafro invece il suicidio di un avvocato di 43 anni, molto conosciuto in città, lascia una bimba di due mesi, anche lui come la prima vittima è stato trovato in casa, indagano i carabinieri. Restiamo nell'area del Venafrano a Pozzilli, successo per l'iniziativa della Neuromed, la notte dei ricercatori. Si è trattato di lasciare le porte aperte dell'istituto di ricerca per consentire ai visitatori di rendersi conto di quali sono le attività che vengono svolte all'interno. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. La notte dei ricercatori di scena in contemporanea in diversi centri europei ha dato ai cittadini la possibilità di conoscere da vicino le attività svolte al Neuromed. L'istituto di Pozzilli sempre più proiettato oltre i confini nazionali, grazie anche all'importante rete di collaborazioni creata negli ultimi anni. Come sempre è stata notevole la risposta da parte della gente e in particolare delle scolaresche che in questi giorni hanno avuto l'occasione di visitare i laboratori e di vedere i ricercatori all'opera. Gli ingredienti sembrerebbero sempre gli stessi, passione, grande entusiasmo da parte di ricercatori di essere coinvolti in questa manifestazione, ma quest'anno credo ci sia un valore aggiunto ed è quello dell'aver vissuto il mondo reale in maniera molto intensa. Siamo stati in giro ovunque, abbiamo coinvolto le scolaresche, abbiamo coinvolto gli attori istituzionali, abbiamo coinvolto le università, proprio per migliorarci e anche per capire quali potevano essere le esigenze da parte dei cittadini, le domande che potevano pervenirci. Quindi è stato un percorso molto interessante, tutti i visitatori hanno potuto vedere cosa avviene nel mondo della ricerca, quindi con le porte aperte, capire anche che il ricercatore non è un topo di laboratorio, ma è un uomo che vive in maniera intensa le proprie emozioni ed è lì per tentare di trovare soluzioni che possano migliorare la qualità della vita. La notte dei ricercatori è stata preceduta da un importante momento di confronto. I principali istituti di ricerca ed esperti italiani si sono dati appuntamento a Pozzilli per parlare del presente e del futuro, delle neuroscienze e della riabilitazione. Noi facciamo rete per migliorare le prestazioni, per sinergizzare sulla ricerca e per affermarsi anche in ambito europeo, perché uno dei problemi che poi ha l'Italia è quello di affermarsi a livello europeo. Neuromede è ovviamente all'avanguardia su questo, per qualità della ricerca che si fa. Va detto anche che abbiamo un forte appoggio della regione Molise, siamo l'unico IRCS della regione e questo crea fra l'altro un saldo attivo della regione dal punto di vista dei malati. Noi abbiamo malati che essendo una regione piccola vanno in altre regioni, abbiamo malati di altre regioni che vengono nel Molise, in particolare qui a Nerone. Questa notte dei ricercatori è quella che serve per fidelizzare il mondo esterno al mondo della ricerca. Ricerca vuol dire innovazione, vuol dire anche possibilità poi di portare questa innovazione al mondo della produzione e creare lavoro. L'Italia non esce dalla crisi se non attraverso l'innovazione. Noi siamo in prima linea per questo. Molti non ce la fanno da mesi, da anni, le scene drammatiche degli sbarchi dei migranti a poche decine di metri dalle nostre coste. Oggi la giornata nazionale dedicata a loro e soprattutto al ricordo delle vittime. Un'iniziativa a Campobasso per sensibilizzare sul tema dell'accoglienza. Sentiamo. Legge 21 marzo 2016 numero 45. La Repubblica riconosce il giorno 3 ottobre quale giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Al fine di conservare e di rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di migrare verso il nostro paese, a sfuggire alle breve, alle risoluzioni. 3 ottobre 2013. Un barcone carico di disperati affonda poche miglia dall'isola di Lampedusa. In 386 perdono la vita, tra loro molte donne e bambini. Una tragedia che è il simbolo del dramma dell'immigrazione. È un fenomeno che coinvolge l'Europa, l'Italia in maniera particolare. Il nostro paese ha istituito la giornata della memoria delle vittime dell'immigrazione. La data scelta è quella del 3 ottobre. A Campobasso, iniziativa nella sala della Costituzione della provincia, c'erano gli studenti, le autorità e loro, i migranti. Esposte alcune opere ed oggetti realizzati dai giovani profughi e gli scatti che ricordano la tragedia di Lampedusa. L'appello dei prefetti di Campobasso e di Serni è rivolto ai sindaci affinché si facciano portavoce di un messaggio di accoglienza. Parola che mai, come in questo periodo, racchiude un significato così profondo. Perché il nostro paese è toccato da vicino dall'emergenza dell'immigrazione. Quest'anno sono approdate sulle nostre coste 128.000-130.000 migranti ai quali bisogna dare una risposta, ai quali bisogna dare accoglienza. Sta prendendo piede anche nel Molise l'accoglienza diffusa? Sì, debbo dire sì. Fra poco noi dovremo firmare con la Regione un protocollo di intesa che consentirà anche ai privati di entrare nei circuiti dell'accoglienza. Quindi questo significa che tutti, anche i privati, gli appartamenti privati potrebbero essere adibiti all'accoglienza. Questo consente di accogliere anche in piccoli territori, in piccola realtà. Qual è la situazione per quanto riguarda la provincia di Sernia? Nel giro di soli nove mesi abbiamo più che raddoppiato la presenza di migranti nella nostra provincia e io ho voluto sottolineare negli incontri che ho avuto ogni tanto con i sindaci che il modello cui tende la nostra amministrazione è quello di conformarsi al sistema SPRAR e che quindi attendiamo da parte dei sindaci una numerosa presentazione di progetti proprio in queste settimane perché il 30 di ottobre scade il termine per presentare domanda di partecipazione allo SPRAR. Torniamo alla cronaca cittadina a Campobasso. I residenti di Via Alfieri pongono una questione relativa a un tratto di strada davanti al loro condominio. È pubblica o privata? Sentiamo Valeria Farina. Una questione controversa e per niente chiara è quella che riguarda Via Vittorio Alfieri a Campobasso nel quartiere Vazieri. Una strada dove negli anni 70-80 ci fu una nutrita opera edilizia da parte di alcune cooperative e che successivamente vide l'intervento della pubblica amministrazione per l'illuminazione, le fogne, il manto stradale e i passaggi che collegano la strada residenziale con Via Le Manzoni. Diversi episodi accaduti di recente hanno poi portato gli abitanti della zona a scoprire che la strada dove abitano, per anni creduta pubblica visti anche i diversi interventi del comune risulta essere ancora accatastata come privata e appartenente alle cooperative che circa 40 anni fa costruirono i palazzi. Noi ci troviamo a vivere purtroppo una situazione anomala, atipica che è quella delle aree non definite che sicuramente è comune anche ad altre aree e altri quartieri della città. L'area è questa dove noi ci troviamo che di fatto è di uso pubblico ma dal comune ritenuta di proprietà della cooperativa Condor. Qui, proprio su questa area, il comune ha realizzato moltissime opere pubbliche di utilizzo pubblico per cui noi non ci riteniamo responsabili di questo tratto di strada in quanto di fatto appartiene al comune. Incredulità, sconcerto e preoccupazione per gli abitanti della zona che in alcuni casi non possono neanche intervenire per quanto riguarda il taglio dell'erba, la pulizia delle aiuole. Con le carte alla mano il comune non ha mai una risposta certa. Noi quello che vogliamo è, da parte di questo ente, la definizione, una volta per tutte, di quest'area. Una definizione però che sia anche supportata da un atto amministrativo in cui si dice di chi è quest'area o di chi non è quest'area. Perché se l'area è la nostra, allora vuol dire che noi la chiudiamo. Se l'area invece è del comune, allora il comune poi la deve mantenere con il giusto peso che si dà a un'area verde, a un'area pubblica perché è consentito l'accesso a tutti. Su queste due rambe di scale ci passano tutti, tutti gli studenti universitari che si regolano alla facoltà di giurisprudenza, ci passano tutti i bambini che la mattina e il pomeriggio quando escono da Via Leopardi vanno a scuola con chi li accompagna. Quindi noi vogliamo una massima chiarezza. Ottimo risultato di pubblico per la moda in centro. Evento organizzato ieri in corso Vittorio Emanuele dalla Confesercenti di Campobasso. Lo scopo è quello di valorizzare le attività commerciali della città legate alla moda. In passerella hanno sfilato modelli di tutte le età. La più piccola aveva 18 mesi. e atmosfera di un film da Far West a Colle D'Anchise non tanto per le notizie di cronaca alle quali ormai abbiamo legato questa definizione ma quanto proprio al Saloon e alla Taverna. Sentiamo di cosa si è trattato nel servizio di Patrizia Testa. Dopo le tre serate western vissute a metà settembre a Colle D'Anchise in scena nel campo sportivo comunale di questo caratteristico paese della provincia di Campobasso ancora un fine settimana con la tradizionale ambientazione in stile Old America. Il Saloon, la taberna, il menù e l'abbigliamento a tema tutto è stato curato nei minimi dettagli per ricreare quell'atmosfera fantastica legata al Far West. Una volta, siccome io godo di fama, che sono un po' audace non spinto, un po' così, venne tanti anni fa un prete sotto al palco prima di iniziare, essere un duccio, sì, vorrei sapere cosa dice stasera se ti guarda se è bello, non lo sai ci, non lo dico a te. Ospite della serata di sabato, la notte bianca del West, l'attesissimo un duccio. Tantissime infatti le persone che hanno raggiunto Colle D'Anchise per assistere allo spettacolo dello showman che non ha deluso le aspettative. Due ore di puro divertimento. Mio nonno dice sempre che il vino aiuta ad amare la gente. Tre bicchieri e non litighi più con nessuno. E mio nonno dice pure, poi la chiudiamo, che tanta gente spende un sacco di soldi per girare il mondo. Lui ha quattro bicchieri, l'umoni gira attorno a esse. D'Anduccio invece ha un argomento più, diciamo così, serio, tra virgolette, quello dell'apertura dell'anno scolastico avvenuta a Sondrio. Ci sono state cinque scuole italiane e tra queste anche l'Andrea Disernia davanti al capo dello Stato, Sergio Mattarella. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Orgoglio e soddisfazione così la preside Mariella Di Sanza ha commentato il successo raccolto dalla scuola media isernina Andrea Disernia selezionata con solamente altre cinque scuole italiane per la cerimonia nazionale di inaugurazione dell'anno scolastico alla presenza del presidente Mattarella e del ministro Giannini. Le immagini che state vedendo sono quelle della diretta andata in onda sul Rai 1. L'esibizione degli studenti dell'Andrea Disernia ha voluto puntare sul fenomeno del bullismo nelle scuole che tanti danni produce soprattutto per i ragazzi psicologicamente più fragili. L'Andrea Disernia ha ideato e preparato la sua esibizione nel corso del passato anno scolastico ed è stata scelta dopo una dura selezione con centinaia di altre scuole italiane. Ci fermiamo sulle immagini di questi ragazzi dei ragazzi dell'Andrea Disernia che hanno rappresentato la nostra regione a Sondrio il telegiornale termina qui vi lascio alle previsioni del tempo tra poco più di mezz'ora ci vediamo per gli aggiornamenti grazie e a più tardi grazie a tutti grazie a tutti